se puoi partecipare è un onore per voi sì, una tua idea per un prossimo evento a Solopaga a Solopaga sto facendo un lavoro sull'Antonio Adonov, un vittore del Settecento e una ricerca che dura da anni è un passaggio Natalia, ciao e complimenti per il primo intervento dei sabati del villaggio se li posso ricordare rispetto a voi Cinzia cantava le sue canzoni e si scriveva i testi sul diario per sentirli veri e se ti chiamo lo so che trovo sempre stai perché non ci guardiamo perché non perdoniamo noi due foglie cadute dallo stesso ramo tu dimmi dove sei se vivi un'altra storia con chi stai lui ti prenderà lui ti stringerà lui ti griderà sei un'unica sarò come vuoi tu e intanto fuori cambia c'è odore di tempesta i tuoni in lontananza la vita è una manifestazione simpatica ottimo intervento dei presenti ottimo intervento di presentazione l'umanità con l'aiuto di Allah se Dio vorrà mare mare eccoci qua siamo i ragazzi della nuova